Lo so che esisti ma non so chi sei Io mi chiamo Luigi e tu? Mi volevi parlare? Sì Tu sai che è la telefono? No È già qualche volta che chiama ma non diceva niente Ti dà tanto fastidio? No Sono solo curioso di sapere chi è Tu non hai dei sospetti? No Era questo che mi volevi dire? Sì, mi parlo di sì Allora posso tornare in camera mia? Perché non resti un po' qui con noi? Ma che resti qui? Sì Stiamo un po' tutti insieme Anche io? Sì Tutta la famiglia Sì 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 Grazie. 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 I was dying to get in, but there was no need for me. Pronto. 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 Pronto.